Dubai è come Milano da voi in Italia si può dire, nel senso che più di 80% della gente che lavora a Dubai non vivono a Dubai ma vivono qui a Sharjah, ma perché? Perché è più economico affettare una casetta, un appartamentino qua a Sharjah, normalmente ci vuole più o meno 15, massimo 20 minuti per andare di Sharjah verso Dubai, ogni giorno nel mattino dalle 5 e mezza fino alle 8 e mezza vediamo che tutta la città Sharjah dove siamo sta andando verso Dubai, invece di andare in 20 minuti, l'ho già provato veramente tante volte, ci vuole talvolta due ore oppure due ore e mezza per entrare la città Dubai e dopo il ritorno torno tutti ancora insieme, dalle 5 del pomeriggio fino alle 8, vediamo che tutto Dubai sta venendo verso Sharjah. Grazie mille, grazie mille. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti